Buonasera a tutti dalla Noria, dalla terra, ancora Noria e Giglio, auguri di buone feste, di buona immacolata e di buon Natale capodanno. Siamo all'azienda Novembre, fa caldo. Fa caldo sì, vedi, siamo senza giacca, i mercatini, 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 i mercatini e i mercatini. E fa caldo. Un biglietto. Venite a comprare un biglietto, un euro? Io sono molto fortunato, panificio, fan bignè e vi dova pure il pane regalato se venite con un euro, dai. Ciao a tutti! Ciao! 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 Diere a me c'è tu! Che hai da dire? Eh? Che hai da dire? Io ho da dire solo Buon Natale a tu! Solo Buon Natale! Sì! Sono a tu quello che faccio! Buon Natale! Quanti mercatini stanno? Eh qui! Com'è quanti mercatini? Quanti giorni stanno i mercatini? Ah! Siamo qui per tre date! Il 30, il 7 e il 14 dicembre! Solo dicembre! Poi... Poi basta! Poi basta! Poi basta! Anzi il 7 veniteci a trovare Giardini in Pienino Rota! Alle 11! Adoperemo l'Apero di Natale! Quindi... Veniteci a trovare Giardini in Pienino Rota! 11 di mattina! Beh è chiaro! Tutti i contradaioli della Noria sono invitati! Grazie! Ciao! Buona serata! Ciao! Buona serata a tutti!